ciao ragazzi benvenuti nel mio canale bentornati e mi scappa un po da ridere perché vabbè questo video tag dove ero stata tagata ho visto tipo due mesi fa da veronica del canale la bambina mi è cresciuta e poi mi sembra che dopo poco tempo sono stata tagata da qualcun altro non mi ricordo se beatrice scusatemi ma hanno fatto in tante ragazze il video sicché non mi ricordo bene comunque è stato di atto da veronica nel canale della bambina mai cresciuta qui ho le domande e faccio questo tag tantissimo che non faccio un video tag speriamo che non mi impapino perché non sono abituata però l'ho trovato carino insomma poi non li faccio mai e vengo tagata poi appunto sembra che sono ignorante che non voglio mai farli però questo siccome è proprio una cosa che mi appassiona in modo particolare per quanto riguarda la skin care infatti il tag dice sei una brava schinkerologa adesso vediamo se sono una brava schinkerologa e l'unica cosa non non saprei poi chi taggare comunque vabbè a fine video una persona naturalmente e a fine video lo dirò allora incominciamo sai che tipo di pelle ai sia una pelle normale la ragazzina aveva una pelle più un più mista con i pori molto dilatati sul naso adesso invece dopo tanti anni che ho molta più cura la mia pelle è diventata più normale è una delle pelli migliori perché non ha problematiche particolari se non che vabbè ho la cuperose che per per cui però non c'entra con pelle normale grassa mista la cuperose non c'entra niente quella è la pelle anche delicata perché è normale ma è delicata e sensibile e qualche macchiolina qua che non so cosa è dovuto è già parecchio che ce l'ho e comunque sia una pelle normale ma sensibile da quanto tempo fa skin care di preciso non me lo ricordo perché comunque ora che sto registrando domani il mio compleanno e faccio 48 per cui sono passati tanti anni e non mi ricordo esattamente a che età incominciato ma più o meno intorno ai 12 sicuramente perché avevo problemi di brufoli di acne mamma mia che età problematiche e piano piano per col tempo comunque hanno cominciato proprio skin care forse vera e propria diciamo qualche anno dopo facciamo 14 15 16 anni più o meno pensate che allora mi ricordo che il contorno occhi io già vent'anni lo mettevo già da un bel po da un paio danni per cui sicuramente ho prevenuto quello che si dice meglio prevenire che curare e per cui su questo sono molto fiera di me meno male perché insomma agire per tempo è la cosa migliore quante volte a settimana per skin care allora i giorni sono sette due volte al giorno per 27 per 2 14 direi 14 volta a settimana perché difficilmente salto molto molto raramente devo stare proprio malissimo perché anche se sono le due le tre le 4 del mattino io mi strucco faccio skin care perché proprio per me è una vera coccola proprio poi non potrei neanche andare a letto truccata perché ho gli occhi molto delicati oltre che la pelle e per cui c'è una cosa proprio che anche che mi piace mi appassiona e poi vedo risultati c'è stato un periodo tipo 6 7 anni fa forse che è stato un periodo forse giù di morale non mi ricordo neanche bene non facevo proprio niente non avevo voglia a volte neanche di lavarmi il viso e ma è stato un periodo così poi ho incominciato grazie anche a youtube perché ho cominciato a guardare i video così mi ha ripreso la spinta insomma e ho cominciato a darci sotto anche poi con le maschere con tutto scusate la mia pelle si è ripresa perché avevo la pelle asfittica con un sacco di punti neri nel naso ma è stato un periodo forse qualche mese che un po così però a parte quel periodo lì diciamo che per il resto io non lo calcolo nemmeno sono anni anni che comunque curo la pelle allora quante volte se niente quello allora non ho detto numero uno numero due scusatemi a numero questa era la risposta della numero tre allora numero quattro qual è il passaggio scritto che fai più di frequente tutti perché la detenzione la faccio mi strucco uso il tonico la essence quello che è contro no chi crema viso siero ultimamente anzi sto usando anche le maschere occhi cosa che prima vabbè magari poi ecco risponde un'altra domanda che fai più di no cosa vedere che ho saltato qual è il passaggio skin care che fai più di frequente a tutti vabbè mi vado a perdere lo sapevo che mi impapinavo allora poi quel 5 quale prodotto skin care che usi meno a qui diciamo già pensato per avere poi la risposta sicuramente lo scrub lo scrub viso perché avevo una pelle con cuperose è un prodotto che che uso ogni tanto solamente quello meccanico soprattutto perché con i microgranuli ho paura di andare a rovinare insomma a grattare diciamo capillari allora cerco di farlo due tre volte al mese non di più ma comunque evito sempre la zona delle guance perché ce l'ho sulle guance e cerco di andare solo praticamente nella zona diciamo ti sapete che la zona t è questa no e faccio solo quella poi certo qualche granuletto ci andrà però cerco di evitare e quello è il prodotto skin care che uso di meno ma perché comunque in generale va usato di meno per chiunque non è che si può fare lo scrub per togliere le morte tutti i giorni allora domanda numero 6 qual è il prodotto skin care di cui credi di avere più bisogno ma che usi raramente appunto come dicevo prima ci metterei le maschere per il contorno occhi che prima non usavo scusate ragazzi mi scappa me la stanno dire quando giro non faccio un tempo neanche a stoppare scusate questo piccolo non starruto è una cosa umana dicevo allora qual è il prodotto skin care di cui credi di avere più bisogno ma che usi raramente la maschera contorno occhi perché ultimamente ho visto che mi si è segnato in modo particolare che ho borse occhiaie cosa che prima non sapevo neanche cosa fossero però l'ho inserita appunto la sto usando regolarmente per cui c'è diciamo che si sa altri prodotti sinceramente skin care di cui credi di aver più bisogno ma che usi raramente no perché come vi ho detto uso tutto per cui non saprei allora domanda numero 7 ti strucchi sempre prima di andare a dormire come l'ho detto all'inizio assolutamente sì e anche bene e cos'altro vi devo dire a parte quel periodo che vi ho detto che mi struccavo giusto quello mi struccavo forse mette un po di crema ma non mi ricordo neanche bene perché erano tipo sei sette anni fa poi domanda numero 8 come ti strucchi prevalentemente acqua micellare sia sul contorno occhi che viso e poi vado a usare latte detergente perché è quello che prediligo perché a me non piace la doppia detersione perché comunque sento che la mia pelle viene troppo aggredita essendo così delicata faccio gli arrossamenti arrossamenti e non ho provato varie volte ma non mi piace faccio solo lo struccaggio con un olio bifasico sia un trucco waterproof che magari o sugli occhi o sul viso o entrambi allora lì si faccio la doppia detersione ma appunto molto raramente sono acqua micellare e latte detergente prevalentemente perché lo trovo più una coccola più delicato sulla mia pelle e essendo anche normale comunque mi piace il latte detergente crema detergente ecco adesso mi sei chiuso qua perdo le domande e le mousse e gel qualche volta in estate magari me le vedete usare un paio di mesi ma credo che quest'anno continuerò con latte detergente vedo ci sapremo ridire allora domanda numero 9 siamo quasi alla fine qual è il tuo prodotto skin care preferito in assoluto che compreresti all'infinito ah beh una delle mie fisse vabbè sono tutte fisse però ah però qua dice proprio il tuo prodotto skin care ma proprio nel prodotto specifico non lo so perché a me avrebbe da dire le maschere viso sono proprio fissata con le maschere viso poi non finisco mai perché magari ne metto in uso tre o quattro o cinque dipende e le alterno per dare alla pelle vale come si può dire oddio mi viene la parola per dire se che ne so una sera la faccio idratante una sera la faccio purificante una sera la faccio per pelle delicata una sera la faccio anti age capito cosa voglio dire quello con tutte vengono le parole è un casino e come prodotto in generale le maschere però come prodotto proprio un prodotto in particolare per dire che ne so latte detergente di anche comprerà l'infinito no perché mi piace comunque cambiare non so questa domanda se intende un prodotto specifico in quel senso lì nome marca però vabbè ho risposto un po' tutte e due le domande allora ah questa poi vabbè la domanda numero 10 sei una brava skin caro skin carologa si si dice si scrive skin carologa ma si si dice skin carologa che voto ti dai da 1 a 10 mi scappa da risa non saprei non mi piace vantarmi mi ritengo abbastanza brava ma non così esperta puoi dare un 10 a un estetista ma dai diciamo un 8 dai un 8 me lo darei taga qualcuno hanno domanda numero 11 che poi non era la domanda vabbè qua dice così allora qua c'è tutto l'elenco di quelle che ha taggato veronica per cui tra cui io infatti scusami veronica meglio tardi che mai è vero per cui se mai faccio una cosa adesso taggo una persona in particolare perchè mi viene in mente lei perchè ha aperto un canale da poco e per cui devo andare a cercare chi non l'ha fatto siccome non ce l'ho fatta e ho avuto tempo adesso di registrare allora mi sono messo a registrare se mi mettevo anche a cercare tutte quelle che hanno fatto questo video perchè ne hanno fatto in parecchie persone cioè non finivo più no magari adesso poi se ho tempo prima di editare il video al limite guardo meglio e e ve lo scrivo nei commenti chi taggo comunque ragazzi cioè è libero questo tag è carino e penso che l'abbia fatto anche Antonella Antonella Pallino mi sa che l'hai fatto anche tu e e non saprei e qua infatti anche lei poi l'ha aggiunto l'ha aggiunto anche dopo vabbè niente taggo Rietta Maltoni che ha aperto da poco un canale vi lascio il link e andatela a seguire che e lei so che segue tantissimi canali seguiva insomma anche prima di riaprire il canale lei e niente taggo lei perchè sono sicura che non l'ha fatto perchè appunto ha aperto il canale da poco ho visto tutti i suoi video e e non l'ha fatto appunto lei sono sicura e altre persone me l'ho detto non saprei appunto e non c'è che mi perdo che vede un video di due ore che 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 taggo ragazzi chi non l'ha fatto e lo vuol fare lo faccia comunque rietta ti aspetto eh mi raccomando voglio vederti fare questo video tag vabbè voglio mi piace mi farebbe piacere se lo facessi e ricordati che l'ha ideato appunto Veronica del canale la bambina mai cresciuta va bene ragazzi spero di essere stata esaustiva di aver risposto bene a tutte le domande sono un po' imbranata apri il video tag e vabbè vi saluto un bacione e a presto ciao